Buongiorno amici del TG Evans, oggi ci troviamo in questa bellissima cittadina che è un tempo più italiana e ora non lo è più e che rimarrà sempre nei nostri cuori che è la città di Inza. E per quale motivo secondo voi noi a febbraio siamo in Inza? Vi do solo un indizio che scopriremo stasera. Inza. Inza.